Non sono mai facili da fare i punti, ma per carità con questo campionato succederanno di vincere, di perdere, di palleggiare, di partire assolutamente, però in effetti io non lo so, soprattutto in quei casi mi dispiace tanto per i punti, per il pubblico che ha bisogno di qualche vittoria, non facciamo apposta, siamo tutti mortificati per questo fatto qua, facciamo anche vedere questo qua, però non si può riferire, secondo tempo con le combinazioni da destra, da sinistra, da fuori, il pallo, la traversa, insomma hai qualche opportunità, insomma, sicuramente quel cosa abbiamo anche creato, e quindi è un po' più il ramarico, naturalmente, cosa dovremmo ricarci quando dopo 25 minuti sono sotto i 3 a 0, sembra che la partita sono finita, quindi il bilancio è quello che qualche punto, forse in più, potremmo chiarire, però è più lato lungo, quindi confidiamo di recuperare, c'è un obiettivo, l'obiettivo è quello di play, mentre il primo anno non sapevamo neanche da che parte girarci, il secondo anno così così, però ci siamo salvati sempre senza passare attraverso i play out, e quest'anno pensiamo, crediamo, siamo discretamente convinti di avere una buona squadra, che ha equilibrio e ha tante buone qualità, e quindi, visto che i play out si sono anche amplificati, di poter centrare anche l'obiettivo che si poniamo in questo caso. Capito?